che cos'è il marketing iniziamo a capire effettivamente che cosa intendiamo per marketing beh ovviamente come per ogni parola ci viene in aiuto proprio quello che la parola definisce marketing ovvero mercato il termine deriva proprio dal verbo inglese to market ovvero immettere e rendere adatto qualcosa per il mercato quindi è stato storicamente utilizzato questo termine per indicare l'attività dell'impresa volta a rendersi riconoscibile a occupare una porzione del mercato a disposizione quindi quando noi parliamo di marketing è proprio sono le strategie che l'azienda mette in atto per occupare in modo distintivo e unico una posizione nel mercato allora marketing adesso lo sappiamo che cosa vuol dire ma che cos'è la comunicazione allora beh anche qui ci viene in aiuto la parola comunicazione che cosa vuol dire beh comunicare vuol dire mettere in comune un'informazione un progetto una competenza o una storia che vuol dire questo che quando noi comunichiamo presupponiamo sempre la presenza di un pubblico c'è sempre qualcuno con cui instaurare una relazione non possiamo comunicare da soli non è un atto che facciamo da soli davanti allo specchio ma attraverso la comunicazione noi vogliamo stabilire una connessione con il pubblico che è dall'altra parte da parte di uno schermo di fronte a noi comunque qualcuno che è in ascolto del nostro messaggio e ricordiamoci sempre che la comunicazione è importantissima perché una storia che non si racconta e purtroppo non esiste se nessuno ci racconta una storia una storia di un'impresa di un'organizzazione o di un prodotto per noi quell'impresa quell'organizzazione o quel prodotto non esiste grazie a tutti Grazie a tutti.